Un controllo su quello che è l'impiego dei fondi PNRR che in sinergia con la Regione attueremo per le prossime opere in partenza. È un controllo sul corretto impiego dei fondi e sulla possibilità di ottenere il risultato sperato. Questo in senso generale, il protocollo è finalizzato alle opere che la Regione porterà avanti, questi sono gli impieghi. L'analisi dei rischi viene affrontata in senso generale già su tutti gli interventi, non solo quelli del PNRR ma tutti gli interventi di spesa pubblica. Lo ha ricordato il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Guido Marino Geremia, incontrando presso la Sala di Unione della Regione Calabria il governatore Occhiuto per la sigla di un protocollo di intesa sull'utilizzo delle risorse pubbliche connesse al PNRR e resilienza. Un protocollo finalizzato a migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali con riferimento alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR. Una cooperazione interistituzionale che potrà essere stipulata a livello locale nelle singole province in modo da rafforzare ogni azione a tutela della legalità. Una collaborazione tra Regione e Guardia di Finanza. Venendo ai compiti, la Regione deve comunicare alla Guardia di Finanza eventuali irregolarità come frodi o abusi di natura economico-finanziaria. Consente quindi anche alla Guardia di Finanza di effettuare controlli sull'applicazione del PNRR, un protocollo di vera collaborazione. Io sono molto contento che più livelli istituzionali lavorino nella direzione di assicurare che le risorse pubbliche siano destinate davvero allo sviluppo della Regione e vadano a beneficio dei cittadini e non siano distratte a fini illegiti. Questo protocollo non è il primo. Sono molto felice del fatto che abbiamo già stipulato tempo fa un altro protocollo simile che aveva per oggetto però le risorse dei fondi strutturali. C'è la necessità di intervenire anche sulle risorse del PNRR soprattutto ora che deve iniziare con sollecitudine la fase della realizzazione delle opere.